Dal 2015 la Camera di Commercio di Genova promuove azioni volte a sensibilizzare le aziende e all'opinione pubblica sull'importanza dell'economia circolare e sulla dimensione della quantità finita delle materie prime. Il solo civismo non è sufficiente a promuovere un'effettiva economia circolare, deve essere abbinata civismo e sanzioni laddove i comportamenti non sono conformi. Allora bisogna promuovere questa cultura fino dalle scuole e prima della prima età, le famiglie hanno un ruolo centrale ma sicuramente enti come la Camera di Commercio e anche enti pubblici devono promuovere a più spazio e raggio nelle imprese e in tutte le attività economiche in senso lato. Perché l'economia circolare vuol dire anche risparmio e in ultima analisi maggiore efficienza delle risorse. Grazie. Grazie. Grazie.